Livello di egocentrismo, mettere una propria foto da bambini come sfondo dell'iPhone Sono un narcisista di merda E salve a tutti ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovo video che come ho definito ieri su Instagram sarà succoso perché Apple da sole 48 ore ha rilasciato la prima beta di iOS 15.4 che è la nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad con il nome iPadOS questo vuol dire che per il momento gli utenti consumer, quindi diciamo quelli normali tutti voi avranno accesso fino ad iOS 15.3 che è l'ultima versione disponibile per il pubblico invece chi come me fa parte del programma developer, quindi uno sviluppatore di Apple avrà accesso all'aggiornamento per il momento beta 15.4 che ha inondato il sistema operativo di nuove funzioni tutte particolarmente interessanti, in genere un aggiornamento diciamo di 0.1 quindi che passa da 15.1 a 15.2, 15.3 beh sì, introduce qualche chicca qua e là ma io è da tanto tempo che non ho visto un aggiornamento minore così sostanzioso tant'è che ho deciso di realizzare un intero video su tutte le novità introdotte che voi appunto vedrete tra qualche mese quando la beta diventerà release, quindi installabile per tutti e pubblicamente ovviamente quando succederà ve lo farò sapere quindi assicuratevi di attivare la campanellina e di seguirmi anche su Instagram per restare aggiornati un po' più in tempo reale novità sicuramente più importante di tutte arriva il supporto ufficiale alle mascherine di Face ID questo significa, questo è un iPhone 13 con su già installata la beta di iOS 15.4 che potremo sbloccarlo con la mascherina inserita e per tutti quelli che dicono eh ma io riesco già a sbloccarlo con la mascherina intanto non ci crede nessuno perché ce la farete una volta su 10 con la 15.3 inferiori e poi adesso è diventata proprio una funzione ufficiale infatti durante la configurazione della 15.4 beta dopo aver configurato Face ID con la nostra faccia vi chiederà se vogliamo procedere con la configurazione di Face ID specifico per le mascherine se noi dovessimo abilitare anche diciamo questo secondo livello di Face ID dovremmo semplicemente registrare il nostro volto una seconda volta senza indossare una mascherina questo è molto importante dovremmo farlo senza mascherina anche nel processo per le mascherine perché semplicemente l'iPhone analizzerà il nostro volto in modo diverso focalizzandosi più sugli occhi che sul resto del corpo in questo modo verrà eseguita una seconda scansione e dopo questa seconda scansione potrete liberamente sbloccare il vostro iPhone con tutti i tipi di mascherina sul volto in aggiunta e questa è una cosa di cui stanno parlando in pochi si può addirittura configurare un terzo livello con gli occhiali ovviamente si sta sempre parlando di occhiali da vista e mai di occhiali da sole perché gli occhiali da sole coprirebbero gli occhi non sarebbe proprio fattibile durante questa terza configurazione aggiungendo proprio un paio di occhiali c'è la voce specifica dovremo invece registrare il nostro volto indossando gli occhiali che normalmente indossiamo con cui vogliamo sbloccare il dispositivo e una volta compiuto questo terzo riconoscimento facciale pensate un po' potremo sbloccare l'iPhone in queste condizioni io vi giuro non ho fatto niente si è appena sbloccato cioè praticamente sembro un cyborg eppure mi ha riconosciuto ovviamente quando gli occhiali si appannano non funziona anche la tecnologia ha un limite però per esempio la cosa interessante è che potremmo addirittura configurare più paia di occhiali cioè se abbiamo non so gli occhiali da lettura gli occhiali da fuori che sono diversi noi potremmo aggiungere uno due tre paia di occhiali e insegnare a Face ID tutti i nostri vari aspetti non solo colore o lunghezza dei capelli che c'era già come funziona ma adesso proprio imparerà a riconoscerci anche con la mascherina con il primo paio di occhiali con il secondo e così via ovviamente questa Face ID che funziona con mascherina e occhiali non è soltanto per lo sblocco dell'iPhone ma è Face ID in generale quindi per i pagamenti Apple Pay universalmente saranno supportate mascherine e occhiali da soli o insieme continuando con le novità ci sono delle nuove emoji c'è un intero set di nuove emoji disponibile come ogni anno infatti Apple tra una iOS 15.3 e un 1.4 introduce delle nuove emoji che ovviamente sono universali cioè non saranno soltanto su iOS ma poi verranno aggiunte su Android Windows Mac Linux e così via qui potete vedere il set completo tutte le nuove emoji che sono state aggiunte adesso vi faccio una rapida analisi anche se poi magari ve ne parlerò meglio nel video dedicato quando uscirà la versione pubblica per tutti abbiamo ovviamente delle nuove faccine delle nuove emoticons che sono principalmente queste qui in realtà mi fanno morire tutte non saprei dirvi qual è quella che apprezzo di più questa qua dell'omino tutto tratteggiato non l'ho proprio capita non so in che contesto la porterai a utilizzare e poi sono cambiate alcune faccine già presenti prima come per esempio quella che si mette la mano davanti alla bocca che adesso esiste anche quella che ridacchia mentre lo fa insomma sono cambiate un po' le faccine ne sono state aggiunte di nuove poi abbiamo tutta una serie di nuovi gesti con le mani abbiamo la mano aperta verticale abbiamo boh tipo il tendere la mano non so esattamente come come definirlo lo schiocco di dita l'indicare questa verrà usata un botto quest'emoji anzi mi chiedo come mai non ci abbiano mai pensato a mettere la prima e le mani a forma di cuore ora mancano soltanto i capazzini a forma di cuore abbiamo poi delle nuove emoji diciamo sul gender perché abbiamo il re diciamo con la corona e è stata anche aggiunta l'emoji dell'uomo incinto non saprei come meglio definirvelo ma questo è un uomo incinto quando le emoji superano la realtà e poi sono state aggiunte le emoji combinate ne avete un esempio da quest'immagine con per esempio il set delle due mani che si stringono ognuna di un colore della pelle diverso si potrà scegliere tra 25 combinazioni diverse quindi direi che adesso Apple ha davvero fatto felice il mondo intero e queste erano tutte le emoji devo dire molto carine più carine secondo me di quelle che Apple ha introdotto l'anno scorso con queste ci divertiremo davvero tanto altra novità che farà piacere a tutti i sani di mente ovvero i vaccinati come me e spero anche voi iOS 15.4 introduce il supporto ufficiale al certificato vaccinale che cosa significa che potrete nativamente aggiungere il vostro certificato vaccinale il vostro green pass chiamiamolo così nell'app salute e quindi di conseguenza nel wallet per intenderci potrete richiamarlo premendo due volte il tasto power proprio come fate con una carta di credito per esempio vedete che infatti premendo sul codice QR di un green pass ci sarà il widget aggiungi nell'app salute e una volta importato ovviamente verificatane la veridicità ci dirà vaccino aggiunto hai aggiunto il tuo vaccino ecco come risulterà la vostra scheda vaccinale nel wallet quindi sarà proprio a portata di mano molto comoda da raggiungere quando vi chiedono il green pass un'altra novità molto interessante per chi utilizza le web app quindi per chi per intenderci utilizza dei siti web che aggiunge alla schermata home perché non c'è l'applicazione nativa per iphone ma utilizza direttamente l'applicazione web per la prima volta ios 15.4 supporta le notifiche push inviate dai siti web cosa che su safari su mac per esempio esiste già da anni avete presente quando sul mac per esempio vi appare whatsapp desktop web vi vuole inviare delle notifiche telegram web vi vuole inviare delle notifiche oppure tipicamente andate su qualche sito per esempio di shopping online che vi chiede se vi può inviare delle notifiche ecco adesso i siti web potranno inviare delle notifiche anche sul vostro iphone o ipad e in più sarà disponibile un set di icone standard per le web app quindi se uno sviluppatore non dovesse aver aggiunto un'icona specifica alla sua web app quando viene aggiunta la schermata home ios 15.4 ce ne proporrà alcune di default che si possono utilizzare universalmente altra novità minore ma interessante che coinvolge icloud keychain il portachiavi icloud che io personalmente non uso ma che sostanzialmente è una cassaforte una specie di luogo sicuro dove salvare tutti i vostri dati di accesso ai vari siti web che visitate dal vostro mac iphone o ipad che piano piano col tempo si sta arricchendo sempre di più perché se prima poteva semplicemente contenere i dati di accesso ad un sito quindi username e password o alla peggio la mail con ios 15.4 ha lo spazio per inserire una nota su quel particolare dato di accesso quindi inserire del testo libero e per nascondere eventuali avvisi di sicurezza quando per esempio una password è troppo debole o quando una password è stata riutilizzata e quindi sul portachiavi appare quell'avviso che ci avvisa appunto che c'è una potenziale falla di sicurezza se noi ne siamo consapevoli e non vogliamo che l'app ce lo ricordi ogni volta una nuova funzione è la possibilità di togliere questi avvisi di sicurezza cosa che comunque io non vi consiglio di fare però sappiate che esiste questa opportunità adesso una novità che in realtà vedremo tra moltissimo tempo ma che io ho apprestato tantissimo è l'introduzione di nuove API nella 15.4 in particolare API per la realtà aumentata si chiamano WebXR API e sono palesemente delle API per la navigazione web tramite un casco per la realtà aumentata l'AR il fatto che queste API siano state introdotte nel sistema operativo ma siano quiescenti nel senso che non c'è modo effettivamente per ora di utilizzarle o anche solo sperimentarle ci porta a pensare che Apple si stia portando avanti il lato software per un dispositivo hardware nonché il visore di Apple che effettivamente se ne sente parlare da un po' di tempo come rumor abbastanza lontano beh questo è il primo dato che potrebbe essere più prossimo di quanto pensiamo c'è chi pensa che dopo questa introduzione software lo potremo vedere addirittura quest'anno io non lo so però può essere Apple potrebbe semplicemente starsi preparando a rilascio di un proprio visore AR o VR come per esempio può essere l'Oculus ci potrebbe essere l'Apple come lo chiamereste voi? scrivetemelo nei commenti parliamo adesso di una novità minore su Apple TV Plus andando nelle impostazioni per chi dovesse avere questo abbonamento premium potrà selezionare da questa impostazione se quando interrompe un contenuto visivo e successivamente vuole riprendere nella visione mostrare l'icona standard del film o della serie TV diciamoli la copertina ecco l'immagine di copertina oppure se mostrare il frame dell'interruzione da dove si era interrotto prima ed infine se vi è piaciuto il rumor del casco per la realtà aumentata di Apple vi piacerà anche questa notizia perché esiste un rumor questo è più un rumor che una novità che afferma che Apple stia lavorando a un'introduzione via software per trasformare l'iPhone in un POS quindi utilizzare il chip NFC che è già presente per poter accettare dei pagamenti semplicemente tramite il proprio iPhone uno potrà appoggiarci vicino alla carta e noi potremo incassare quel pagamento proprio come se fosse un POS a tutti gli effetti così i tassisti non potranno più dire che il POS gliel'hanno rubato ieri guarda caso tutte le volte che chiedi al tassista di usare il POS perché c'è la fattura gliel'hanno sempre rubato il giorno prima e tu ti verrebbe anche da chiedere ma che c***o ti rubano il POS veramente mi stai prendendo così tanto per il cu ma questa è una riflessione mia torniamo al video appunto questo è un rumor quindi non prendetelo come novità quali invece erano tutte le altre però effettivamente c'è chi ha trovato delle tracce nel codice c'è chi sostiene appunto che arriverà con iOS 15.4 definitiva quindi tra qualche mese anche qui a me sembra un po' presto però mai dire mai potrebbe arrivare anche questa funzione quindi ragazzi queste erano tutte le novità introdotte nella prima beta di iOS 15.4 ricordate appunto che siamo agli inizi è la prima beta è uscita da due giorni c'è ancora tanto per Apple da aggiungere da implementare prima che il pubblico la veda come mi avete scritto su Instagram non vi preoccupate se per il momento non trovate questo aggiornamento perché per il momento non è per voi è soltanto per chi ha il certificato sviluppatore o appunto seguitemi in generale perché quando uscirà la versione per tutti tutti quelli che attualmente hanno iOS 15.3 potranno aggiornare alla 15.4 secondo me è questione di un mese o due in genere queste versioni escono verso marzo quindi sì un mese e mezzo o due detto questo ragazzi se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice seguitemi su tutti i miei social network come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione cliccando qui i lati potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale se lo fate siete dei grandi io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video e noi ci rivediamo in un prossimo video e noi ci rivediamo